Io sono Marco Mosca, sono ambasciatore contro il bullismo della scuola secondaria Vincenzo Asprea. Quando sono stato eletto ambasciatore non ero molto contento perché sapevo che si sarebbe rivelato il compito difficile e così è stato, però poi ho scoperto che aiutare le persone è molto solidale e bello. Ciao, sono Giuseppe Crea e faccio parte della classe prima A dell'Istituto Vincenzo Asprea. Oggi vi voglio dire che mi sono divertito tantissimo a fare l'ambasciatore e ad aiutare i miei compagni. Ciao, mi chiamo Nina Gugli e faccio parte della classe prima A dell'Istituto Vincenzo Asprea. Quest'anno sono stata scelta come ambasciatrice contro il bullismo e questa cosa mi ha emozionato molto perché ho fatto capire a tutti i miei compagni la gravità di questo fenomeno. Ciao, sono Serena Gugli e frequento la seconda B dell'Istituto Vincenzo Asprea. Mi piace fare l'ambasciatrice perché mi piace aiutare le persone, soprattutto quando i ragazzi gli aiuto torneranno a sorridere. Mi fa sentire qualche qualcosa e bere con me stessa. Sono Giuseppe Maria Ferriti e sono ambasciatore della classe prima A dell'Istituto Vincenzo Asprea. Io l'ambasciatore ho capito cosa vuol dire la parola bullismo e come vuol dire essere vittima di bullismo. Sono fiero di essere ambasciatore per poter scoprire il bullismo nel mondo come mi spero in esattamente. Ciao, mi chiamo Alessia Papale e sono ambasciatrice contro il bullismo della scuola secondaria Vincenzo Asprea. Per me essere ambasciatore è un compito molto importante e mi rende felice perché aiutare i miei coetanei mi fa sentire bene. Quest'anno abbiamo fatto attività molto importanti con la scuola primaria. Abbiamo spiegato che cosa è il bullismo e che non si deve verificare nelle classi e nella scuola. Sono Megalia Papale e ho proposto la seconda media dell'Istituto Asprea e sono uno degli ambasciatori. Essere ambasciatici è un modo per informarti e informare gli altri e eliminare il bullismo dalla nostra società. Ciao, sono Sofia Pavia Neti, faccio parte dell'Istituto Vincenzo Asprea in classe prima B. Nella mia classe ci sono stati episodi di bullismo, sono orgogliosa di me stessa e del mio compagno perché abbiamo aiutato questa persona a sorridere di nuovo e socializzare con gli altri compagni. Io mi chiamo Fremiglia Galluso, ho 12 anni e frequento la prima B della scuola secondaria Asprea. Io sono l'ambasciatrice contro il bullismo di quest'anno e sono veramente onorata. È un vero no essere ambasciatrice ma è anche una grande responsabilità. Vorrei essere l'ambasciatrice contro il bullismo anche l'anno prossimo. Sono Neti, frequento la seconda D della scuola secondaria Asprea. Per me è stato davvero bello essere l'ambasciatrice contro il bullismo perché mi ha fatto capire cosa provano le vittime ma non solo. Spero che questa esperienza possa essere d'aiuto alle persone in difficoltà. Mi chiamo Lorenzo Praticò, frequento la seconda D della scuola secondaria Asprea. La mia esperienza come ambasciatore è stata molto significativa, infatti mi ha insegnato molte cose e sono molto contenta di aver portato al termine questo incarico che mi è stato dato da circa inizio anno. Noi alla scuola stessa di Reggio Calabria, contro il bullismo e stare il bullismo, scegliamo la gentilezza.